Mi chiamo Michele Mi chiamo Michele Martinelli, gestisco un piccolo ristorante qui a Nibiaia, un paesino del comune di Rosignano Marittimo. Prima dell'arrivo della fibra effettivamente non riuscivamo a navigare assolutamente, non era impossibile aprire allegati, non si riusciva a vedere un video o qualsiasi cosa che abbia avuto un formato un po' più pesante. Da quando è arrivata la fibra riusciamo a lavorare con molta più facilità, se devo mandare allegati importanti riesco a mandarli velocemente, mentre prima dovevo passarci un pomeriggio. Mi viene richiesto spesso di mandare preventivi, immagini, quindi magari di caricare anche immagini sul mio sito internet e questo era impossibile da gestire qui a Nibiaia. Dovevo recarmi magari presso qualche amico giù magari a Livorno e fare tutto da casa di un altro perché qui era impossibile. Grazie alla fibra anche Nibiaia oggi è collegata al resto del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.